Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, stagioni intermittenti quelle scorse, dopo l'esploit che l'aveva portato anche lui, questo lo collegheremo sicuramente al discorso chiesa, al centro di trattative di mercato, ad aste, a una cifra esorbitante di 100 milioni mi pare di ricordare, e poi probabilmente tutto questo cancan mediatico alla fine l'ha pagato Belotti, ora che ha ritrovato serenità, ha ritrovato quella forma, quella convinzione che lo ha portato a fare questo inizio veramente strabiliante. Potrebbe essere l'anno di Belotti questo a giudicare da come si è mosso e soprattutto da quanti gol ha fatto in questo avvio di Annata? Sì, a giudicare anche poi dalla squadra che gli ha costruito intorno al presidente Cairo, pur contestato da una parte i tifosi, poi alla fine il presidente Granata è riuscito a mettere su una squadra, soprattutto dalla metà campo in su, ma anche in difesa, però soprattutto con tanti giocatori offensivi. Il giocatore simbolo è verde arrivato nell'ultimissimo periodo di mercato che per forza di cose andranno probabilmente anche a beneficiare lo stesso rendimento del Gallo Belotti con la maglia del Torino. Con la maglia nazionale ha quasi un, diciamo così, ha sfruttato un assist, nel senso che lo diciamo da mesi la concorrenza non è che sia tremenda per quanto riguarda il numero 9 della maglia azzurra, perché tutti coloro che l'hanno provata hanno fallito quasi immobile, non parliamo di Balotelli e via discorrendo. Quindi Belotti fondamentalmente ha un assist da poter sfruttare sia con la maglia, facendo bene col Torino, poi sfruttando anche quello che sarà il percorso con la nazionale in questi mesi che separano il giocatore e gli impegni con i club nazionali prima della sosta di Natale, che insomma sarà il tempo del primo bilancio. Aldo, la nazionale quindi ha trovato il suo centravanti, è Belotti il giocatore a cui aggrapparsi in avanti? Un po' premaduro per dirlo, ma sicuramente in questo momento è il punto di riferimento. Sono concordo con l'analisi che la concorrenza in questo momento è minima per il numero 9, abbiamo bisogno di avere grandi attaccanti, grandi bombe, peraltro nella nostra storia anche più recente ne abbiamo sempre avuti, però questo rapporto società-nazionale spesso non va di pari passo, uno su tutto immobile per restare proprio all'attualità, Mancini per tornare invece a tempi passati, quindi non sempre il giocatore che riesce a far benissimo nel club poi fa bene in nazionale, invece alcuni giocatori riescono in nazionale a esprimere il meglio. Speriamo che Belotti abbia preso questa strada e l'Italia ha bisogno di un giocatore davanti che faccia gol e che abbia anche queste caratteristiche perché è un giocatore moderno. Quanto vale oggi Belotti? Sentiamo il direttore Ceccarini che ci dice anche la sua a proposito del fatto che possa davvero essere l'anno di Belotti. Me lo auguro perché Belotti è sicuramente un grande giocatore, un grande attaccante, ha avuto un momento di difficoltà, ha complice anche l'infortunio, però io devo dirti che non si può discutere il valore del Gallo-Belotti, poi soprattutto in questo anno che porterà all'Europeo io credo che ci sia un'ulteriore spinta che lui ha nel convincere del suo valore tutti coloro che in questo momento sanno quanto sia forte Belotti, però magari se c'è anche un piccolo dubbio credo che sia partito molto bene anche con la nazionale, insomma col Torino sta facendo bene, ha fatto bene anche nella zona del preliminare di Europa League, quindi è un Belotti che secondo me quest'anno sarà un grande protagonista e l'Italia ha bisogno di un attaccante con queste caratteristiche perché poi lui comunque segna ma si mette a disposizione della squadra, quindi è sicuramente un valore aggiunto in più per Mancini per quanto riguarda la nazionale in vista del prossimo europeo, ma anche per il Torino perché insomma lui è un trascinatore. Qual è oggi il valore di mercato di Belotti? Allora se ti ricordi bene la clausola era di 100 milioni di euro, il Milan arrivò all'epoca quando il direttore sportivo Mirabelli voleva a tutti i costi portarlo in rosso e nero a fare un'offerta intorno ai 50-60 milioni di euro, io credo che siamo ritornati su queste cifre, insomma io credo che Belotti ai 50-60 milioni li valga, anche perché gli attaccanti poi sono merce rara, quindi lui comunque è ancora relativamente giovane, è un attaccante che secondo me può fare ancora qualcosa in più, può avere ulteriori margini di miglioramento, per cui con le cifre anche che girano adesso, cioè io fossi il Torino non chiederei meno di 60 milioni, 50-60 milioni. Aldo 50-60 milioni è la cifra giusta per Belotti in questo momento? Cairo ne ha chiesto anche 100 da questo punto di vista, però mi pare una valutazione congrua rispetto al valore del giocatore, rispetto a quanto ha fatto ultimamente, mi sembra una valutazione che può essere nelle cose. Anche il Torino è partito molto forte in campionato, in questo momento dopo due giornate di campionato è in testa alla classifica, Tommaso Bonan potrebbe concentrarsi solo sul campionato, il Torino questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, è vero che comunque c'è sempre il rammarico di essere uscito, di non essere riuscito a qualificarsi per l'Europa League. Sì, ci ha provato contro una squadra non nettamente più forte, ma con giocatori più abituati a giocare, ad affrontare queste competizioni o comunque questi scontri diretti a livello internazionale. Quindi il Torino adesso fondamentalmente ha una squadra, ha una rosa, Mazzarri, anche numericamente importante. Non soltanto in avanti, perché ricordiamo noi parliamo di Verdi, però ci sono già Belotti, c'è già Zazza. Ora io in Serie A non è che ci siano tante squadre che possono contare su due giocatori così importanti, due numeri nove così importanti. È stato aggiunto Verdi e deve rientrare Iago Falc, che l'anno scorso in termini di assist ma anche di gol è stato importante. In difesa c'è Bonifazi, Bonifazi in più, che ha già dimostrato comunque di saperci fare, è anche segnato, è rimasto poi in culo, poi vedremo quello che sarà il futuro del giocatore. Ha una certezza in porta, Sirigu, che fa ancora parte della nazionale di Mancini. Insomma, i ruoli principali del Torino sono ben coperti, il numero nove a centrocampo, Rincon, una certezza, c'è Baselli, ci sono tanti giocatori, la crescita di Sassalukic, e in difesa l'ha registrata. Ha qualche infortunio di troppo, Anzaldi, però è stato preso l'Axalt. Quindi vedete che il Torino fondamentalmente ha ruoli coperti, anche le alternative, ce l'avrebbe una rosa completa anche per affrontare un'altra competizione. Non ce l'ha, a parte la Coppa Italia, quindi il Torino ha attenzione, perché potrebbe veramente essere una, non rivelazione, ma non dico un'Atalanta dell'anno scorso, di due anni fa, però potrebbe migliorare rispetto all'anno scorso. Potrebbe molto migliorare. E aggiungo su Belotti che se guardiamo poi le prime squadre della nostra Serie A, guardiamo i nove delle squadre, la Juventus, le prime tre dell'anno scorso, la Juventus ora ha il 9 Higuain, l'Inter ha il 9 nuovo Lukaku, il Napoli ha un 9 Milik, poi a Mertens, sono tutti giocatori stranieri. La prima squadra, le prime due squadre sono la Lazio e il Torino con i 9 italiani immobile e Belotti per l'appunto i due attaccanti che giocano, si alternano in nazionale. Quindi il Torino ci pensi bene prima di dar via Belotti e se proprio lo deve dare via, rispondendo alla domanda prima sui soldi, secondo me in meno di 50-60 è impossibile. Stiamo come la pensa sul Torino adesso, Furio Valcareggi. Toro di Mazzarri, allora Mazzarri è un allenatore che gli ha portato 10 punti in più al Torino, perché la squadra dell'anno scorso, tu considera che le prime 15 partite ha giocato senza centramanti, perché sia El Gallo sia Zazza non stavano bene. E solo Mazzarri, solo Mazzarri, lo dico con orgoglio perché l'ho sempre ritenuto uno de' bravo, insieme ad altri bravi, non è più bravo, è bravo insieme ad altri. Ecco, Mazzarri ha portato una diecina di punti in più. Quest'anno non ha fatto tanti cambi, ora ha preso Verdi, fortissimo, però Mazzarri è un allenatore che porta i punti, quindi Toro è nella fascia 3 come quelle che ti ho detto prima, Fiorentina. E Verdi come lo vedi, come utilizzo in campo, come mezza punto oppure puoi giocare anche in un'altra posizione? Do la maglia a Verdi, vai dove ti porta l'istinto, tanto tu hai soluzioni possibili dappertutto, perché c'hai i due piedi, nessuno sa se Verdi è destro o sinistro, non si sa, che è uguale. Credo che non possa tirare nemmeno i calci di rigore, avrebbe l'imbarazzo di come tirarli, allora le punizioni di là le batte con piedi, di là dopo un altro, quindi è un ambidestro come forse Luciano Chiarugi, come Daniele Giraldi, che è un giocatore della Fiorentina, che non sapevi se era destro o sinistro, come Paolo Maldini, non sai se è destro o sinistro, c'ha talento, c'ha velocità, c'ha corsa, c'ha resistenza, grande giocatore. Aldo, d'accordo su tutto? Grande, come posso non essere d'accordo con Furio, a parte dieci punti di Mazzari, che saranno sei o sette, diciamo, su quello si può discutere, per il resto tutto bene e anche queste citazioni, Giraldi, Fantastici, Chiarugi, Spazia da Maldini. Certo, dagli anni Sessanta fino a Giorinotti. Perfetto, la memoria storica Furio del calcio italiano dal Settanta in poi, quindi va benissimo quello che ha detto. Sul Torino volevo aggiungere che c'è un peccato originale, nel senso, ormai è una realtà, però questa qualificazione mancata, o queste due sconfitte nel turno preliminare pesano e peseranno molto, punto per due motivi, per la rossa tanto ampia che secondo me era stata preparata e predisposta per affrontare i tre impegni, che diventano due, ma la Coppa Italia ormai è talmente un impegno rato che diventa difficile gestire tutti questi giocatori e poi perché veramente è un peccato non qualificarsi. Le due gare sono l'unica pecca che il Torino ha avuto in questo inizio di stagione, dai primi turni a questi primi turni di campionato. Una pecca pesante perché ti esclude forse dal torneo che dà più prestigio di tutti in questo momento in Europa. Il caso Chiesa adesso, le parole del Citi Roberto Mancini hanno riacceso i riflettori intorno al calciatore della Fiorentina, ha detto si concentri sui viola, torni a lavorare con concentrazione, con attenzione, sia felice alla Fiorentina. Tutto questo perché fino a questo momento Chiesa è stato poco determinante, non è stato il giocatore che abbiamo conosciuto in queste ultime due stagioni. Aldo, tu avevi già espresso il tuo parere prima di Roberto Mancini. Sì, io avevo detto l'estate, quindi non eravamo ancora qua, di scuro di mercato su tutto, quando ancora probabilmente non c'era la nuova proprietà, quindi proprio parliamo di tanti mesi fa, avevo detto che Chiesa andava venduto. Per due motivi sostanzialmente, perché la Fiorentina andava rinforzata e quindi occorreva fare cassa per poi andare a rinforzare la squadra. Poi il secondo motivo, quando un giocatore praticamente è già andato a Torino, in questo caso non era fatti special, aveva già fatto un contratto. Ecco, in questo caso parli anche da ex calciatore per capire cosa scappa nella testa di un giocatore. Cioè, praticamente era già mangiare il filetto, tornare diciamo di nuovo alla cotoletta, tornare di nuovo alla carne dura non è facile, non è facile perché siamo tutti umani. Quando ormai assaporavi un trasferimento nella squadra campione d'Italia, nella squadra dove probabilmente andavi a giocare per Scudetto e Champions League, poi ti ritrovi a tornare alla Fiorentina, tra virgolette non è mai andato via, però diciamo che c'era stata ormai la possibilità concreta che lui fosse andato in un'altra squadra, la Juventus in questo caso è comunque un altro top club, e poi tornare indietro non è facile. Avevo anche aggiunto che secondo me Chiesa si sarebbe, come dire, calmato, comunque sarebbe tornato in uno stato d'animo tale da poter giocare bene quando avreva rinnovato il contratto. E però questo contratto ancora... È tutto da discutere. È tutto da discutere, è tutto in alto mare, o che il ragazzo lo voglia rifirmare, o che non lo voglia rifirmare, insomma, da qualsiasi parte si possa vedere, comunque secondo me questa situazione, assieme a questo viaggio virtuale che poi non è andato in porto, secondo me crea nel ragazzo qualche disagio, che in questo momento è evidente. Non è detto che duri, perché comunque è un ragazzo poi positivo, però naturalmente non stiamo ammirando il miglior Chiesa degli anni passati. Sentiamo proprio anche sulle possibilità di rinnovo con la Fiorentina di Chiesa il parere del direttore Ceccarini. Io credo che lui adesso con il mercato chiuso ritroverà la tranquillità. E poi si siederà a un tavolo con la Fiorentina, perché la Fiorentina gli proporrà il rinnovo del contratto, a cifre penso importanti, vicino a quelle di Ribery, perché se Ribery guadagna sui quattro, più o meno, la Fiorentina per Chiesa, che commisso ha detto essere al centro del villaggio e che sarà l'uomo giocatore sul quale ricostruire la Fiorentina nel futuro, deve avere un trattamento uguale da questo punto di vista. Ecco, l'unico pensiero, l'unica incertezza che abbiamo adesso è che farà Chiesa, cioè rinnoverà subito, ci saranno degli nuovi incontri, sarà convinto, non sarà convinto del progetto, questo non lo possiamo sapere. Però è chiaro che saranno mesi importanti, perché non penso che si arriverà a giugno in questa situazione, cioè con Chiesa, con questo contratto e con la scadenza al 2022. Per cui cominceranno a breve i colloqui per rinnovare il contratto e poi dipenderà molto anche dal giocatore. Io credo che la Fiorentina farà un grande sforzo, questo sì. Se lui è convinto di restare a Firenze perché è convinto anche nel progetto, secondo me firmerà. Se invece magari questa cosa vorrà prendere ancora tempo, è chiaro che questa trattativa potrà andare per le lunghe. Allora, Tommaso Bonano, una bella partita quella per il rinnovo di Chiesa con un forte adeguamento in gaggio da parte della Fiorentina. Certo è che conteranno anche le ambizioni che verranno prospettate al giocatore. Sì, poi c'è da dire che qualunque cifra dovrà proporre la Fiorentina o potrà proporre la Fiorentina in sede di rinnovo di contratto non sarà comunque mai equiparabile all'altezza di un'eventuale offerta in arrivo da Torino, che sia la Juventus, che sia l'Inter o che sia una delle alte grandi big europee. La Fiorentina può fare gli sforzi che vuole, però Commesso l'ha anche detto. Noi abbiamo alzato già il Montengaggi a 60 milioni, che è già uno sforzo importante per una squadra come la Fiorentina che ha soldi, ha finanze, ma finché ci sono i paletti del fair play non potrà mai andare a spendere così tanti soldi. Quindi comunque anche un'offerta vantaggiosa a 3 milioni, 4 milioni comunque sarebbe inferiore ad altre. Quindi secondo me non è tanto l'aspetto economico, ma come dice Vite e Lorenzo, come dice Valdo, è anche una questione di prospettiva. Non basta dire costruiremo la squadra intorno a Chiesa, ma bisogna che arrivino altri giocatori, altri riberi, magari con qualche anno in meno calcisticamente parlando. A prescindere da questo, la Fiorentina tornerà e potrà diventare competitiva per vincere qualcosa fra tre anni, fra un paio d'anni. Poi ci sono sempre le eccezioni del calcio, c'è l'exploat come può essere l'ester, però lì è un altro campionato, un'altra impostazione. Il paragone è difficile. Quindi anche una squadra come la Fiorentina, quella che dovesse iniziare ad oggi, fin da subito a fare grossi investimenti, probabilmente diventerebbe competitiva fra un paio d'anni. bisogna trovare una chiave degli argomenti convincenti per un giocatore che, anche nell'ultima esperienza con la nazionale, è in continuo contatto anche con altre realtà, con altri compagni di squadra, che sia Bernardeschi che ha lasciato Firenze due stagioni fa e che gioca nella Juve. Quindi per forza di cose, Aldo lo sa, si parla anche con i compagni, ci si raffronta, ci si confronta anche su quello che potrebbe essere un futuro neanche troppo lontano. Aldo, 30 secondi, vai. Aggiungo due cose velocissime. Una è l'importanza di Enrico. Ci avrà un ruolo, secondo me, non decisivo, comunque sarà molto influente, non tanto sulla trattativa, che comunque credo che conduca Enrico, ma sullo stato d'animo, perché il ragazzo, secondo me, ha due possibilità. Una, che comunque accetti che sia Viola, diciamo, non dico a vita, ma comunque per una lunga parte della sua carriera e vada a fare questo rinnovo e si butti nuovamente in questa avventura. Due, però, secondo me, poi alla fine il ragazzo troverà di nuovo gli stimoli, nel senso farò ancora bene, benissimo qui alla Fiorentina, fra un anno e mezzo, due, non so quando è poi la scadenza vera, andrò con più forza e probabilmente anche con un potere economico importante. Aggiungo l'ultima cosa, e mi taccio, che sarà molto importante, secondo me, anche l'andamento della Fiorentina in questa prima parte del campionato, quindi fino a Natale, cioè se sarà una Fiorentina che riesce in qualche modo anche un po' a scoprirsi, a sorprenderci positivamente, per Chiesa tornerà anche un po' di entusiasmo. Se, purtroppo, come queste ultime due gare, c'è un po' qualche malumore, questo, secondo me, non aiuterà Chiesa a sposare poi definitivamente questo che è il progetto Fiorentina. Cambiando argomento, Aldo, ti piace la Roma per come è stata costruita? Visto che comunque ne abbiamo parlato spesso, però ci chiedevamo come sarebbe andata a finire la campagna acquisti. La Roma ha fatto un bel mercato, questo non c'è dubbio, però il mercato non sempre si traduce poi in campo, in punti, in squadra che gioca bene, è in soddisfazione per tutti. Sono cambiate molte cose, però mi sembra che sia una Roma nella falsa riga di quelle degli ultimi anni, tanti cambiamenti per motivi di fair play o per scelte, o perché c'era Sabatini prima, o perché c'era qualche altro dopo. Quindi molti cambiamenti che non sempre si possono assorbire facilmente. Il mercato è stato buono, vedremo ora poi cosa il campo dirà, sono curioso, però l'ambiente romano è sempre molto particolare. E quindi buon mercato, ma aspettiamo. Le valutazioni sulla Roma da parte di un ex giallorosso, Sandro Tovalieri, intervenuto a TNV Radio. Sono stati colpi importanti, anche inaspettati, perché si parlava di tanti giocatori, questi erano giocatori che non erano stati mai messi in risalto, quindi sono stati colpi importanti, specialmente Mkhitaryan, che è un giocatore che anche ieri con la nazionale ha dimostrato il suo talento, se sta bene fisicamente è un acquisto importante, può essere un supporto notevole per il reparto di attacco della Roma. E poi anche Kalinic, che può essere un vicegego che quando ci sono partite un pochettino più tranquille abbiamo un sostituto che possa ricoprire quel ruolo. Quindi mi sembra una squadra che è stato per fare un buonissimo campionato, gli darei un bel voto, soprattutto perché Petraghi è stato bravo soprattutto accedere ai giocatori in esubero che non era sicuramente facile. Allora, siamo arrivati ai saluti, ci sarebbe ancora da discutere sulla Roma, è vero Aldo? Dobbiamo allungare la trasmissione. Dobbiamo allungare la trasmissione. Dobbiamo anche parlare di questi ultimissimi arrivi Mkhitaryan, Smalling, che tra l'altro dovrebbero trasferire una grande mentalità vincente. C'è molta carne al fuoco, per la Roma questi acquisti sono importanti, i giocatori anche che vengono da squadre europee importanti, mentalità nazionali, e quindi il mercato della Roma si rafforza molto. Vedremo poi cosa dirà il campo, però secondo me insomma c'era molto carne al fuoco anche per parlare ancora un po' Lorenzo. Aldo Filicano ha perso il telefono, se lo ritrovate sapete come fare, chiamatelo, insomma in qualche modo riportateglielo, perché se no non riesce proprio ad andare avanti, giusto Aldo? Eh, sembra che manca un arto, un braccio, una gamba. Grazie Aldo e grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti.